Ciao ragazzi Io adesso giustamente sono ignorati tutti quelli davanti Perché ho detto ciao ragazzi Abbiamo vinto Abbiamo vinto lo strappati VTuber e adesso andremo a festeggiare Sul palco degli MTV Digital Days A Monza Ci sono venuti a prendere Io speravo arrivasse un Mercedes nero ragazzi Invece mi sa che sarà questo pulmino qua Che triste Adesso sempre pessimista No realista infatti Leopard Sono andato a chiedere all'autista del pulmino Se fosse lui quello che ci doveva portare Lì il TV Lui fa no 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 Quindi è tutto riaperto Si riapre tutto ragazzi Io aspetto ancora la lima Questa ragazzi non è questa No vabbè se è questa La figura Questo è il Ranzani che sta tornando a casa Questo è il Ranzani sì E niente adesso aspettiamo Io punto su una Per me sarà comunque un pulmino Abbiamo ragione ragazzi Era un pulmino Salve saluta Stiamo facendo un reportage Qualcosa da dire di importante No no Nulla di importante ok Io voglio vedere il video No sì anch'io perché voglio vedere il video Allora praticamente È successa una cosa straordinaria Un evento che su YouTube non succedeva da secoli Stai in mezzo Praticamente Will Bush ha caricato un video Esatto E vogliamo dire Cosa da dire Se noi lo guarderemo E poi gli facciamo un rossito Devo dire una cosa Che io Will Bush Era uno dei pochi Che seguivo su YouTube Anche perché c'era solo lui Era l'unico Nel senso Infatti Però lo seguivo veramente Guarda tutti i suoi video Del primo canale Del secondo Allora attenzione Will Bush L'ho detto solo per farvi vedere Che spiega Che lui ha fatto Will Bush Ragazzi Abbiamo finito di vedere il video di Guglielmo Ora facciamo un piccolo parere Diciamo la nostra Prima Pot Che è una che ha lavorato A stato contatto con Guglielmo A Radio DJ giusto Prima ho sbagliato a radio Ho dovuto rifare il fight Sei contenta Cioè tu lo conosci meglio Di chi lo segue Ragazzi The King is back Il ritorno proprio del re Perché discutendole Come? Sì ma nel signore E poi è morto No Io guardavo Will Bush Mentre guardavi video di Doesn't Matter Cioè l'ho scoperto in contemporanea Io un po' mi sta sul cazzo Mi sta sul cazzo Perché mentre li guardavo Io mi scofonavo Un ciotolo di latte Con biscotti E ho messo dei fianchi pazzeschi Con dello piccolo Quindi Will Bush Io un po' ti odio per questo Anche Daniele Doesn't Matter Quindi adesso ritornerai grasso Quindi ritornerai grasso Grazie Will Bush Ragazzi Lasciate un like Se volete vedere Will Bush in una candid camera Non inquinare Ragazzi siamo arrivati a Villa Reale Guardate che figata Qua è dove io e la mia famiglia Passiamo le vacanze estive Ma smettila che questa è casa mia È una piccola Diciamo che È la terza casa che abbiamo Ci eri mai stata La prima è ad Arcore No non ce l'ho messata Ragazzi adesso non so quanto si vedrà Ma è davvero davvero molto molto carina Però voglio fare un saluto agli amici di Caserta Perché la regia di Caserta è molto diversa Ma ragazzi questo è un cartonato Se li faccio così adesso va giù Perché in realtà è questo così È un green screen No 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 Stiamo entrando Stiamo cercando di capire dove si era entrata Dovremmo fare un prank Corre sul prato inglese Sai come si corre sul prato inglese? Così col mignolino ragazzi Non inquinare Ragazzi siamo in Villa Reale Guardate che bella Questa è una libreria reale Questa è una libreria reale Con delle ragazze Delle fantastiche tendine reali Con delle donzelle reali Vedete? Sono reali Ma sai che Che buono ossigeno reale ragazzi Facciamo un saluto reale Ciao Rale Allora Possiamo urlare perché è anche un segreto Abbiamo scoperto dove si nasconde La bambina di The Ring So quando ho messo un vetro E così lo possiamo vedere senza farci male Ma noi abbiamo tolto il coperchio Questa cazzo profonda secondo me Sa Vuole far vedere una cosa Cioè come siamo vestiti per gli MTV Cioè Alessandro Si è vestito obiettivamente bene Ragazzi voglio fregnotare il mio outfit reale Nel senso un minimo classico Ma poi c'è zainetto da rave Con scritto YouTube Per ricordare comunque Da dove arriviamo Cioè dal basso E dove siamo arrivati Cioè da me su una parte Cioè io sono vestito Cioè io sto l'eleganza Come Luca Giurato Sta all'edizione Quindi c'è ragazzi Ma perché c'è questo razzismo Verso le amici contro zampe? No razzismo no Il discorso che scusate Cioè qui di un cani bianco Può entrare Ah perché pericolo Ah no io chiedo Ah ma in generale scusi No no Abbiamo appena ordinato Io l'ho già mangiato a casa Però l'ho riordinato Do da mangiare Ragazzi maccheroncini al salmone Scusatemi Cioè questo evento Altro che MTV Digital Days Cioè c'è Ma l'ho zafferato Sì c'è Mi sa che c'è ancora la zafferata Buona pizza Stiamo facendo l'intervista con Wintana Servizio La principessa Oh ciao Alessio La cosa più importante È tornato Alberto ragazzi Pensano che diremo cose Di estrema importanza E carattura sociale Ma in realtà Tornato Alberto ragazzi Dentalmente da Palermo Stiamo facendo l'intervista con Wintana Saluta Diremo Prima promici mio nome tu Wintana Eh adesso pronunci giusto però Eh ma prima facevo apposta Dirlo sbagliato È una gag no Come quelli che Chiamano male tipo Sgarbi Esatto esatto Sgarbi sbagli il nome apposta Esatto Pensiamo che io ho portato il sole Da Palermo Perché c'era brutto tempo Poi erano tutti coglioni Ho portato il sole Ho portato i cannoli Molto più importanti del sole 16.000 like Se volete vedere 16.000 like 16.000 calorie Tra l'altro No ma ne ha portati solo tre stavolta 16.000 calorie In totale Adesso finiamo l'intervista Quindi ci vediamo Guardate ragazzi sono tutti super Con vicinissimi al palco ragazzi Pronti ragazzi Dove andremo a presentare il nuovo pezzo Non inquinare Ragazzi stiamo per salire sul palco Abbiamo fatto una piccola scaletta Di quello che andremo a fare Ragazzi c'è emozione nell'aria Anche se non andremo in onda Da nessuna parte Perché sono solo quelli che si godranno Lo spettacolo dal palco E poi grazie della luna Qui voleva salutare Possiamo? Sì Guardiamo Agostino Gargiulo Che ha vinto il concorso Perché ci ha votato Ragazzi noi non ve l'avevamo letto Ma votandoci potrete vincere La presenza qui Anche su Lui è entusiasta È felicissimo di salire sul palco C'è anche il suo fratello Ed è venuto con il suo fratello Tu sei scritto al nostro canale Sì certo È uno dei primi Uno dei primi Dopo fai salire anche lui sul palco Con noi Per un saluto finale Carico? Certo Ti sta cagando addosso ragazzi C'è una paura fottuta Ma non vuole avvertere Ragazzi stiamo scattando il selfie Dal palco Per te facci un po' Passiamoci Ragazzi Come siamo sul palco Abbiamo finito appena adesso Di parlare con voi È stato bellissimo Ok grazie ragazzi Grazie ragazzi Ci fate un saluto anche in un video Poi vi paghiamo eh Altamente Undiamo Undiamo in the show Ok No Ci tatti Ci tatti Vi tacco va bene Ci tacco Solo a te però Ho capito vi tatti Vi tatti Prendetevi tatti Il show In tre Uno Due Tre Fai il show E andiamo a casa E ti dirò la grazia Che a quando E vi dico a tutti i ragazzi Ci sarà la mia più grande gioia Grazie raga Un bacio Vero grazie di tutto Ciao ragazzi Ciao Ragazzi Un messaggio importantissimo Anche ai festival come questo Quindi bellissimo Divertimento Musica Tuborg Quindi felicità Trovate cinque minuti Mentre state rimorchiando Mentre state salutando Grandi ragazzi Bella Bella Sapete cosa stavo facendo? Stavo trovando due minuti Nell'euforia Per buttare la bottiglietta d'acqua Perché non bisogna inquinare Non inquinare Ora anche voi dovete dirmi in camera Mi raccomando Una cosa importante Non inquinare Vai prima tu Non inquinare Non inquinare Non inquinare Quindi ragazzi Buttiamo l'acqua Vedete E nel frattempo Abbiamo pure il fottuto della gente Che non fa mai male Ragazzi stiamo vedendo Un panino integrale A salmone Backstage Cosa ne dici? Non è buono A due piani tra l'altro Guarda l'altro Ma c'è un freddo Che arriva da Sì Ed io ho preso questo Che siamo un genio Noi abbiamo praticamente Siamo entrati qui nel backstage Grazie al nostro pass d'artisti Tutti credono Siamo quelli che mangiano il salmone Grande Grande E praticamente siamo talmente potenti Che abbiamo occupato un divanetto Con i panini Perché vogliamo fare stare comodi i panini E di conseguenza è veramente bellissimo È stato bello stare sul palco È stato bello È stato un'ora sul palco A parlare con voi che eravate giù Alcuni non erano iscritti Non saperano chi fossero Speriamo che non si saranno iscritti Se ti sei iscritto In occasione di questo evento Sperici Ragazzi indovinate dove siamo Ma quello non si vedrà mai Aspetta Per quello non volevo far indovinare MTV Sotto Che fuori Adesso si facciamo fare una bella fotografia Che metteremo su Twitter Su Instagram Quindi Comunque ragazzi Stora vi raccontiamo bene Salutiamo Alberto Anche non ve l'abbiamo fatto vedere poco Ce lo siamo tenuti tutto per noi Che giugata È geniale Cioè masochismo L'ho stato pure Io ho ridotto il logo di MTV Appendia abiti E sono molto orgoglioso Ragazzi stiamo aspettando Alberto Che ci deve portare in omaggio Dei cannoli Come ai vecchi tempi Oh Cazzo che uomo Pure guardate che vi ho portato No le magliette da ignorantelli Le magliette da ignorantelli Grazie Non ce le metteremo mai Soprattutto nei video No scherzo Sì una foto Vabbè ovvio Ma ora che Vabbè mandami le foto Mi raccomando Oh grazie Alpi È stato un piacere di vederci Ma scusami È ignorante Si mettere i social Senza mettere i nomi dei social Cioè voglio dire No Ale Se tu che sei ignorante Perché si chiama Albert Cyrus In tutti questi social Ovunque non credo Sì 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 Smerdato Se lo cerchi Trovi sempre Albert Cyrus Anche se ti è andata male Cioè l'abbiamo istruito bene Almeno su questo lato Cioè voglio dire Salute Anche io Ale Vado il video a braccio No A Palermo Napoli 100% Mi aspetto Oh hanno promesso Ricordate io Come fate per le barbeviore Le nostre promesse Anche le barbeviore Quindi ci mette a Palermo Dai facci un Chiedi 20.000 like 20.000 like ragazzi Per questo video Tieni un attimo Voglio fare la foto a braccio Puoi fare il vlog Quella volta che ho bacito Alberto È bellissimo ragazzi È tutto reale Grande Grazie Vabbè incasso anche il cannone A vero che noi Salutiamo anche Il cugino di Alberto Che è venuto qua A trovarci con Alberto C'è la Sony Alfa 5000 E quindi mi sta simpatica Ci ha fatto un sacco di foto E poi ci manderà E le metteremo sui social Facciamo anche lui Che è stato aiuto Alberto E poi ci fa anche musica Anche musica Ma a quel poco Sì sì Facciamo anche musica Facciamo un pezzo E poi facciamo tutto Esatto Aspettati A 50.000 like Ci fa una base Faremo la nostra canzone E la mettiamo su iTunes A 9,99 euro Una canzone Non inquinare Siamo tornati a Milano Da Monza Ma la macchina Della nostra amica potta È bloccata E siamo tutti disperati Fica Adesso stiamo cercando Di chiamare i carattrezzi Perché io di macchina Non capisco nulla Alessandro Tanto meno Ciao Ale Ormai sul canale Non contate più un cazzo Ho vinto tutto